Volevo di più una cosa importante Si sente molto di più l'accento calabrese Ma no, ma non è calabrese No, è il filtro È il filtro calabria Ieri qui Questo oggi ho guardato un VOD E volevo dirvi Che abbiamo infiltrato nel vostro gruppo Una nostra oper giovanissima Ma nel gruppo di chi? Con chi sta parlando? Nostro gruppo Nostro? Nostro virus Ah, ok Ieri avete fatto il fare una ragazza L'ho stretto E come è entrata se non lo sappiamo? Era un King Cam Era un King Cam è il nome? Ah, King Cam ho capito È il giapponese È un ragazzo che vi ha detto anche il lavoro che faceva Che lavora Diciamo che si intende di informatica Ma Antone, mi chiedo una cosa Ma ci sta indicando qual è la spia? Non penso sia rimasto No, ma Quelle due le spievo Che lo sto dicendo Perché adesso abbiamo le informazioni di tutti i vostri computer Ah, ok Lei è Amica Adesso mi Ah, ho capito Ho capito Hai Capito Quella ragazza Si fingeva di essere a casa di una nostra amica Cioè ha fatto finta di essere amica di Cricri per 10 anni Per quel per un giorno che sta ieri Un giorno che sta ieri Se parla il fuoco non si capisce un cazzo Eh sì perché Se parla ma Su Discord Purtroppo Pantone Se lei non è capace di parlare un tipo di mamma come si deve per la voce È ovvio che Sì ma Se potessi una donazione Al canale Certo E potenziate C'è il vostro sistema di live Sì perfetto Prego Pantone Mus faccia pure Doni pure Mi non dillo Non mi chieda l'Iban Pantone Mus perché È entrato nel mio computer Dove sapere tutto Dove sapere se posso Donare anche Certo Valuta No Credo di no Purtroppo Accettati i volamenti In Gittini In? Chiedo scusa Gittini Gibboni In Gippini È una nuova moneta Non conosciamo Che moneta? Sì sì È una moneta che riconsigliano di investirci qualcosa su Ok Gippini Mi può dire l'acronimo del Acronimus Acronimus Io lo so di aver chiamato Sì Presumo GPP Sì Sì Ah ok Ho visto anche che Di persone colte Questo canale Grazie Grazie per il complimento Conosco Un certo Pantusa Si riferisce a A GP Pantusa Che abbiamo Sì Ok No sì In effetti Non è che Loro lo spediamo Ma ogni tanto Giusto perché Non sta senza fare niente Allora ci chiede Di venire qui Però Mi sento una persona Non più competente Va bene Mi meraviglia Faccio un carisma Lascia il segno E anche Un altro ragazzo Che spesso Scriverà la vostra Chat Sì Che non entra mai sul disco Chi sarebbe? A chi le va Dac Vuole dire Cadaverica La nostra Sì Sì È molto Perspicace Sì So leggere Al contrario Il comice Più o meno Dall'asilo Più o meno Super giovane Se la prossima volta Vuole parlarmi In farfallino Per essere più Criptico Ok Perfetto Grazie Pensavo Che Non conosco Questi Linguaggi Di 600 anni fa Assolutamente Anche il serpentino È Anche Casa da Save Series È Mi capitato Di vedere Una condivisione Sì C'erano Fidanzate Una fidanzata Che giocavano Ad Apex Ah Ho capito Sì 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 Conosciamo Coppie di amici Sì Consigliare La fidanzata Delfonico Di business Allora Il gioco Ah Non la ritiene All'altezza Di Del suo Gameplay Soprattutto Robina L'esperienza Ludica Del fidanzato Mi fa piacere Che siete impegnati Anche Su questo genere Di argomenti Pantanimus Ragazzi Pantanimus E anche Nel sociale Quindi A tutto tondo Grazie Pantanimus Guardi Le ripeto Io non l'ho nemmeno Invitata Perché S'intrufolata Lei Quindi Allaggiata Se L'ho Sperato Quel Mito Non lo so Tipo Se la terra è piatta Ah ok Stiamo ancora Ok Se c'è vita Oltre il Pivio Nord Oltre il Pantanimus Non lo so Non sarebbe lei Non lo so Vediamo Li vedo Piuttosto Attoniti E Sconcertati Da queste Forte rivelazioni Pantanimus Un attimo Sento Dei strani A lui Ok 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 Aspetta Vedete se cazzo Vero Signori Per quando Non cremate Non cremate La terra è cubica E' cubica Eh ragazzi Devo Dire andare Devo andare Verso le foto Magari un'altra sera Spunterò così All'improvviso Da dietro Va bene Ma Saluto Ficcissima cosa A questo Medanno Che sta Sì Volevo Un tema Veloce E salutare Un popolo Che viene sottovalutato Sui libri di storia Sì Non ne parlano molto Non ti dedicano Proprio Carighe Volevo Salutare I Fenici Volevo Che Volevo I Fenici Volevo C'è Non fate Che Fenici Volevo Salutiamo I Fenici Se c'è Qualcuno Ancora In vita Ricordate Pantanimus Vi Supporta E dalla vostra Parte Ringraziamo Pantanimus Per questa Incursione Ecco È andato Via Perfetto Posso Deselezionare Effetto Sono pure Mettium Apparerà Come Pantanimus Mamma mia Perfetto